Ti consigliamo tre giochi da fare in coppia. Il mio consiglio è Rift Force, un gioco nel quale prenderete il comando delle gilde che controllano gli elementi della natura per cercare di prendere il controllo dei territori che comporranno il vostro campo di battaglia oppure sconfiggere gli elementi dell'avversario. Il mio consiglio è i buoni e cattivi fantasmi, dove una partita tira l'altra. Un classico di Alex Randolph, dove il bluff e la strategia ne fanno da padrona. Ciao, siamo Lizia e Sebastiano di Nerd al Tavolo. Noi ti consigliamo The Wolves, perché se non sai essere competitivo imparerai ad esserlo per portare alla vittoria il tuo branco di lupi. Mantenere il dominio territoriale non sarà affatto facile, i modi per farlo sono diversi, ma tu saprai scegliere quelli giusti? Per un approfondimento clicca qui.